Ed eccoci da Tenore Informatico! Bentornati a tutti i tenorini qua sul mio canale. In questo video vediamo come poter rimuovere lo sfondo da una foto che riguarda come soggetto noi oppure un altro oggetto presente nello sfondo e poter rimuovere il panorama che sta dietro. Su internet troviamo tanti programmi che permettono di rimuovere lo sfondo. Alcuni di questi spesso richiedono un abbonamento oppure una iscrizione gratuita per rimuovere lo sfondo. Questo non serve perché ti propongo oggi un sito, un editor online gratuito senza l'obbligo di iscrizione che ti permetterà di scaricare lo sfondo rimosso e così convertire una immagine JPEG in PNG. Vediamo subito il sito di oggi, ma prima di procedere ti faccio vedere questa mia foto di Tenore Informatico. Nella parte davanti come soggetto sono io e dietro c'è lo sfondo del mare. E lo voglio rimuovere completamente ma lasciando la mia immagine. Vediamo adesso il sito che secondo me è uno dei migliori. Puoi fare questa procedura sia da PC e anche da telefono e ti lascerò nella descrizione il link per modificare da subito le tue foto. Lo strumento per rimuovere lo sfondo gratuitamente si chiama il photo room. Quello che bisogna fare facilissimo inizia da foto. Dobbiamo caricare la nostra immagine. Seleziono l'immagine di Tenore Informatico. Qui l'avevo già editata. Però andiamo direttamente su desktop. Tenore. E questa è l'immagine. Alcuni secondi dopo guardate ragazzi che figata. Viene rimosso completamente lo sfondo dietro. Quindi il panorama. Possiamo modificare gratis ma richiede la registrazione. Oppure semplicemente andare a scaricare la nostra sagoma con lo sfondo rimosso. Scarichiamo il PNG. Scarica. Possiamo decidere di scaricare in alta risoluzione ma ci richiede la versione pro a pagamento. E quindi anche l'iscrizione. Oppure risoluzione standard. Che devo dire che come risoluzione non è male. Una risoluzione di 1280x1280. Scarico. L'immagine. Poi ci viene chiesto se vogliamo fare l'iscrizione. A me non interessa. Però voglio ugualmente scaricare l'immagine. Bene. Possiamo chiudere la pagina e ti lascerò nella descrizione il link di questo sito. E puoi fare l'editor sia da PC che da telefono. Chiudo la pagina di Chrome. Ed ecco qua l'immagine. Senza lo sfondo. Vediamo le differenze del prima e del dopo. Prima e dopo. Bene tenorini. Anche in questo caso siamo giunti alla fine di questo video. Vi ricordo come sempre l'iscrizione al mio canale. E lasciate tanti like a questo video. Alla prossima da tenore informatico. Ciao a tutti.